Finalmente possiamo giocare di Escapist 2 ma c'è una novità importantissima Questa volta è multiplayer Posso giocare con Ferinichi in prigione Sono pronta Steph andiamo in prigione subito E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E sono sempre che se giochiamo a Escapist 2 E finalmente siamo qua prontissimi per iniziare la nostra avventura nella prima prigione del gioco Io non vedo l'ora, non vedo l'ora di essere chiusa in una prigione e non ne voglio più uscire Esattamente Ho realizzato qualche secondo dopo che Ferinichi ha detto che non vuole uscire dalla prigione Ferinichi ha detto che cosa finiscono E pensavano che ha detto che dobbiamo uscire dalla prigione e quindi neanche stiamo ascoltando Poi ho fatto restare a vita Comunque la conosciamo Gli sviluppatori ci hanno dato in accesso anticipato il gioco Però abbiamo il tutorial e due prigioni Il tutorial ce lo siamo già fatti perché era la classica cosa che spiegava come giocare al gioco semplice semplice Esatto Qui noi abbiamo soltanto due prigioni a disposizione E dato che lo vogliamo sfruttare al massimo Diciamo che per questo primo episodio il nostro obiettivo non sarà quello di iniziare un piano di fuga Ma sarà bensì quello di abituarci ai nuovi diciamo ai nuovi comandi Ai detenuti alle guardie E dato che abbiamo creato Ai ritmi di questa prigione Ai personaggi che ci daranno una mano o ci creano complicanze che li vedrete tra poco Quindi diciamo che ce la prendiamo con calma e iniziamo una vita in prigione Poi penseremo a un piano di fuga che per di più ci proporrete voi nei commenti Quindi sarà anche una cosa davvero interessante Comunque vi mostriamo chi abbiamo creato Allora prima di tutto qua c'è un consolino Che come potete vedere ha gli occhiali perché Perché ha un sacco di informazioni da darci Quindi è uno di quelli sospetti che gli chiedi le cose e sa un sacco di cose Poi abbiamo Lion Abbiamo preso ispirazione dalla sua skin di Minecraft Quindi ha gli occhiali sopra la testa steampunk Pizzettino ed è perfetto Dopodiché Indovinate chi è prima di vederlo Noi abbiamo provato a immaginarci come Espy Perché noi Espy non l'abbiamo mai visto nella realtà Quindi abbiamo dovuto diciamo provare ad immaginarcelo E per noi Sappiamo che non è così Espy è così Espy per noi mentalmente è così Ovvero senza capelli con una barba foltissima E degli occhiali stravaganti Quindi questo qua è Espy nel nostro gioco di The Escapist E infine abbiamo Luca che non è perfettamente così Luca l'abbiamo visto Non è perfettamente così però Però Luca è vero Ci si avvicina Ci si avvicina Esatto Ci sta E poi c'è anche una consolina Esatto qua abbiamo messo anche una consolina Che anche lei darà una mano Allora abbiamo messo il consolino A rappresentare i consolini maschi Una consolina Esattamente Esattamente Direi che siamo pronti a giocare Ovviamente ci sono anche i nostri personaggi Ma li vedrete tra poco Ferre ma dove sei? Sopra di te mi vedi? Ah ciao Mi sono appena svegliata Però siamo anche vicini Sì Siamo anche vicini Questa qua è la mia camera Questa è la mia camera Che bello Invece questa è la tua Oh dobbiamo correre il cortile Che sono ci bastonano qui Vieni Stef Vieni vieni Arrivo arrivo Posso chiederti un momento una cosa? Dimmi Dove l'hai tirato fuori quel cappello da osacchiotto Ferre? È un segreto È il motivo per cui io sono finita in prigione Ma non ti posso dire altro Non ce l'ha nessuno Ferre Vorrei capire da dove l'hai tirato fuori Non posso Stef Però non faccio altre domande Moriresti se lo sapessi Non posso Allora Allora ovviamente siamo qua C'è il classico appello Tra poco dovremo andare a fare colazione Ma io ho già notato una cosa Luca ha lì una missione per noi E secondo me Luca è la persona più importante da tenere come amico in prigione Perché lo vedo pieno di contatti Ce lo vedo È quello che gli chiedi E Luca è un cacciavite E fum lo tira fuori Tipo i mafiosi della prigione Esatto Ce lo vedo bene Luca Ci ucciderà dopo aver sentito questo Ci parlo un attimino al volo Ma no sono perquisito Lion Speriamo non abbia niente di losco Povero Lion Di losco nelle tasche Ho messo gli occhi su un orologio nuovo Ma è una manovra rischiosa Tira l'attenzione nella prossima routine colazione E potrò prendermi il tempo che mi serve Luca ci stai chiedendo di fare qualcosa di difficile Questo sì che è difficile Quindi dobbiamo creare scompiglio qui a colazione Perfetto Sai come si crea scompiglio Fere? Vieni qua No Steph Io quando vedo cibo mi devo sedere e mangiare Ecco come si fa Fere Vieni qua Vieni qua che ti inseguo Aiuto Mi hai interrotto durante il cibo Ok ce l'abbiamo fatta No Fere a me stanno inseguendo Allora che ce l'abbiamo fatta Aiutatemi Prima missione completata Abbiamo Comunque hai visto subito la missione Luca distrae delle guardie Perché così ruba un orologio È il mafioso della prigione Parte già così subito Sul pezzo In una maniera incredibile Allora Adesso noi abbiamo fatto colazione E abbiamo la prima volta Il tempo libero Perfetto Quindi possiamo fare un po' Quello che vogliamo Ci prendiamo un'altra missione Vediamo se qualcuno ci dà una missione interessante Perché Espiana ammazza la baseball in mano? Lo vedi? Guardalo Espi A cosa stava pensando? Che combini Non puoi girare così in una prigione Espi ti prego Calzolaio Smistamento posta Spazzino E in bianchino Ma sono occupati Scusa Sono rossi Sono rossi Ah sì Lavoro solto da toni Eh vedi sì Lavoro Requisiti non soddisfatti Però aspetta Ah Fere Allora Dimmi Ho capito Per fare lo spazzino Se noi arriviamo a 60 di forza E 30 di intelligenza E credo che 30 di intelligenza Ce li abbiamo già Fammi vedere subito Sì Quindi se arriviamo a 30 di forza Possiamo fare lo spazzino Utilizziamo il tempo libero Per allenarci Perché in questo modo Noi diventiamo più forti E possiamo appunto Fare lo spazzino E finalmente avere un bel lavoro Ovviamente non ci dobbiamo stancare troppo Perché altrimenti Non possiamo più fare nulla E' un po' noioso Io non so se voglio fare lo spazzino Ci servono soldi E cosa vorresti fare? Lo smistamento forse Lo smistamento Davvero? Ti piacerebbe? Almeno ho visto lettere Anche a me comunque Perché magari Facciamo lo smistamento Leggi le lettere altrui Ti fai gli affari degli altri È fantastico È l'ora del lavoro E dato che non abbiamo Un vero e proprio lavoro Da quello che ho capito Noi dobbiamo Andare tipo a parlare Con delle persone Una roba del genere Tipo qua? Sì 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 Perché la freccia indica Questa stanza In questa stanza qua Guarda adesso tanto ce lo dice Ce lo dice ce lo dice Quando non è un lavoro Devi andare al centro impiego Riceverai dei soldi Se parli con lo staff Del centro impiego Candati dai lavori In una bacheca Fuori dal centro impiego Ok però sono tutti occupati Quindi non è Eh ma io mi vorrei candidare Ma scusi Mi dovete dare la possibilità Eh esatto Qua c'è disoccupazione Nella prigione Nessuno ci offre un buon lavoro Che cosa dobbiamo fare? Per il tuo momento preferito Della giornata È ora di fare ginnastica Allora che faccio? Io continuo con i pesi Perché devo aumentare La mia forza Fino a 60 Se voglio fare lo spazzino Serve tantissima Ma dimmi te se Mi devo allenare I muscoli Per fare lo spazzino Nella vita Ma lo chiedo anch'io Cioè perché non fai altro? Vabbè Mi sembra un bel lavoro Ok Tutti mi rispettano Mi pagano bene Va benissimo così Ma che stai a fare? Forma fisica Guardami Sì ma che cos'è? Guarda mi stanno anche riprendendo Lo vedi che stanno facendo Fissi di me? No non stanno riprendendo a te Fere Mi dispiace Sì che stanno riprendendo a te In ogni caso è finita l'energia Sono tantissima Non ho più voglia di fare nulla Sì magari per diventare un calciatore in futuro Quando usciremo Eh vedi 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 Così fa un sacco di soldi poi In ogni caso è il momento delle docce Allora io me ne vado da Fere Dall'altra parte le docce per le ragazze Guarda che non ci sono le ragazze Qua siamo tutti maschi Non è vero Fere Allora le prigioni non possono essere maschili Fere è pieno di ragazzi chiaramente Cioè ci sono le prigioni divise Quindi questa è una prigione maschile Io ovviamente sono una prigione maschile Certo Cioè con il cappello da orso Come tutti i maschi di questo mondo Vero? Sì sì Nessuno lo sa Quindi non rivelare la mia identità Ok? Non lo farò Questa è una prigione maschile Se ti scoprono E io sono maschio molto virile Ok? Stai zitto Va bene Vuoi un pugno? No bene Ti dimostro come sono forte Vieni qua Dai Dammelo sto pugno Abbi il coraggio Guardie Hai visto che non mi fanno nulla Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Guardia Cioè Bonin E di qua davanti mi ha dato un pugno Mi ha fatto malissimo E adesso glielo do io Fere mi sa che tra lì noi ci possiamo picchiare Loro non ne frega nulla Eh Magari stanno che siamo amici Buona sapersi Le prendono come schiaffetti di affetti Buona sapersi Almeno ti posso picchiare ogni volta Qua ti spiego Ci sono degli strumenti musicali che puoi suonare Senti che bravo che sono Eh i tamburi I tamburi A me piacciono sempre le percussioni Guarda Guarda Non mi hai fatto finire il discorso Non serve a nulla suonare Invece qui Possiamo studiare E se arrivi a 40 di intelligenza Puoi finalmente fare il lavoro della tua vita L'unica cosa Come si studia Steph? Vero che è strano? È un po' Cioè io non riesco a farlo salire velocemente Ah devi seguire Penso le Sì ma a te se Se premi è Sale? Sì 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 Perché a me no? Ah ma puoi mantenere premuto Steph Tieni premuto Sarevamo due ore a cliccare come dei pazzi Perché gli altri si cliccano Quindi ho pensato che questo era Steph Eh anche io Ok sono stanca A quanto è arrivata? Tipo 43 44 Allora puoi già fare Puoi già candidarti Proviamo ad andare alla baccheca A vedere se puoi fare lo smistamento posta Sì finalmente Sono arrivata anche io 40 giusto giusto Andiamo Dove era Steph? Non mi ricordo più Steph dammi i soldi Dammi i soldi Ma perché dobbiamo avere dei soldi per lavorare? Allora non basta Non so perché non ci abbiamo fatto caso Ma servono anche dei soldi Quindi mi servono anche 60 monetti Io ne ho solo 10 Per fare lo spazzino sono 35 Quindi parto in vantaggio Dai bene così Bene così No fare Sono io lo spazzino della prigione Fare sono Ma non lo possiamo fare tutti e due? Forse sì Allora Siamo nel tempo libero Però abbiamo poca energia Quindi magari possiamo andare in giro Ad accettare la missione di qualcuno Però vorrei accettare la missione di qualcuno di simpatico Robin non mi sembra un gran che no? Dici Eh dai andiamo a vedere se magari Lion, Espio o Luca Hanno una missione per noi O magari anche un consolino Non li ho ancora visti i consolini in giro Ascolta Fere Io mi prendo la missione di Jack Allora Mar non mi ha ridato i soldi Non sarà il momento di una bella rissa? Cioè devo andare a spaccare la faccia a Mar? Sì chi è Mar? Proviamolo Ci servirebbe un'arma per spaccare la faccia Però dato che siamo in due Ma no a pugni dai a pugni Ce la possiamo cavare Allora bisogna guardare un po' tutti Perché non ho idea di chi sia Mar Quindi cerchiamo di muoverci E di cercarlo Ok vediamo un po' Non ho capito dove sono tutti comunque Nanch'io dove se ne sono andati? Dove stanno in giro? Sam Luca Grimsey Ciao Fere Ciao Dov'è Mar? Non lo vedo Starà arrivando Aspetta 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 Starà arrivando Magari è una ragazza Eccolo eccolo è questo Dimmi Discrivimelo Questo con i capelli grigi Ha dei capelli neri e grigi Neri e grigi Ci sono di fronte io Mi vedi? Guarda è l'orso inconfondibile Mi vedi? Ok Mar Perfetto 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 Eccomi 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 Perfetto Non appena finisce l'appello Lo iniziamo a pedinare Appena ci sono poche guardie Lo stendiamo Esatto E Jack mi paga 40 monete Fere 40 monete Queste sono belle Un po' anche Espi è una missione Poi la facciamo Uh la missione di Espi secondo me è bella A parte il fatto che ha ancora la mazza da baseball E noi no È corso velocissimo nella sua cella Ho visto qual è la sua cella Quindi abbiamo un'informazione in più Ok Però sta già dormendo Fere Non posso fare nulla Eh bisogna andare a nanna Ormai ora Però la città che andrà a dormire Fere Ciao Fere Fetti pesta Ma è la tua Ma è la tua Io sto già dormendo Qua tranquillissima Allora Visto che ci sono Io mi deposito la mia forchetta Il mio cucchiaio Il mio coltellino Ho dei chiodi Non so perché Ma io non ho mai preso dei chiodi Fere Controlla cosa c'hai tu scusami Diamo io che cosa Qualcuno mi ha messo Ma io ho dei semi Una tazza Un cacciavite Una lastra di metallo E il cacciavite lo puoi tenere? No Infatti mi sto imboscando tutto Perché è Imboscali Imboscali Perché qua abbiamo degli oggetti Che non possiamo tenere Senza averli presi Imbosca tutto E adesso mettiamoci A dormire Così il primo giorno è finito E direi che siamo partiti bene Ci siamo fatti un po' di lavoretto Ci siamo ambientati Abbiamo picchiato un pochettino Una bella vita Allora andiamo a pestare Marre E tanto c'è di nuovo l'appello Appena finisce l'appello Questa volta lo seguiamo Anche se c'è la colazione Vabbè lo seguiamo a colazione Al tempo libero Esatto Al tempo libero Dopo la colazione lo stendiamo Perfetto Fere 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 Lo vedi Marre Qua vieni Ok Pediniamolo Circondiamolo Circondiamolo Marre sei fregato Vai pestalo No 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 ci sono le guardie Dici Sì sì aspetta 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 Adesso dobbiamo stare attenti A colpire Marre Non il consolino Ok Aspetta aspetta Aspettiamo che si separino Un pochettino Appena gira qua Pronta Pum Vai Fere dammi la mano Eh ma come faccio Ci sei mezzo tu E lo vedi Aia Ma come fanno Stendilo Bastacchettini premuto Ok Buttalo giù Buttalo giù Yes Ok 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 Prima che lo prendano Steph E qui in infermeria Vieni vieni Carico un super colpo E lo stendo con un colpo Stavolta Perché sono arrabbiatissimo Eccolo eccolo Vai 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 Perché il mio pugno Sarà devastante Si mi sposto Boo Ok Ci hai fatto Te l'ho dato compiuto Fa fare completato Rissa fatta L'abbiamo stessa Aspetta che rubo anche qualcosina Una bustina di te Grazie Grazie andiamo Grazie 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 mille Ok andiamo a completarla E abbiamo fatto Oh no Oh no Fere me ne ho scoperto Fere me ne ho scoperto Fere aiuto Mi vuole picchiare Mi vuole mettere in quarantena Per una giornata Fere non voglio finire In quarantena Ti prego aiutami Fere aiuto 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 Andiamo via Andiamo via Io direi che ci possiamo Fermare così per questo video Ovviamente Tanti likes Commenti Sondagino Per farci sapere Se appunto Volete una miniserie E sarà una miniserie Semplicemente perché Non abbiamo tutto il gioco A disposizione Ma dai Ma da dove è arrivato Ma te lo meriti Però dai Te lo meriti Ediziamo quindi Sarà una miniserie Con tutto quello che abbiamo A disposizione Fino a quando Non uscirà il gioco Ufficialmente Che è tipo Il 23 agosto In ogni caso Ci fermiamo così Beh ragazzi E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Però per dervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao